L'assessore alla cultura, formazione e sport della regione Basilicata, Roberto Falotico, ha commentato l'approvazione da parte del Consiglio regionale di una delibera della Giunta sull'adozione del piano annuale delle attività educative e culturali in attuazione del piano triennale 2011-2013. L'Assemblea regionale, ha detto l'assessore, ha correttamente interpretato l'atto di giunta, ovvero la mera esecuzione di un provvedimento di programmazione pluriennale già adottato e perciò perfettamente rientrante nel regime di ordinaria amministrazione. Falotico ha poi evidenziato come il patto di stabilità e la crisi economica hanno reso più difficile la governance del settore cultura, ma questo, ha precisato, non ha impedito che si esercitasse lo sforzo maggiore per la realizzazione di quegli interventi che sono alla base della crescita civile e culturale della regione. Il ruolo della cultura, ha concluso Falotico, è proprio quello di garantire la conoscenza, la divulgazione, la promozione, l'animazione e la valorizzazione del bene e delle attività culturali, conferendo suggestioni agli eventi programmati e realizzati.